Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo ci sarà un video molto corto, solo per informarvi che chi di voi ha un PC con Epic Game Store installato, è disponibile un'offerta, Control. Per chi di voi non lo sa, Control è un videogioco di genere sparatutto in terza persona, in stile avventura dinamica, sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da 505 Games. E' stato pubblicato per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox il 27 agosto 2019. Quindi, per chi di voi ha un PC con Epic Game Store installato, questa offerta durerà ancora pochi giorni, quindi vi invito subito a scaricare Control per chi di voi ancora non l'ha mai giocato. Vi faccio subito un riassunto veloce di cosa va la storia. Dopo aver subito un evento soprannaturale quando era bambina, Jesse Fedden entra in contatto con una forza pranormale, Polaris, che le conferisce poteri soprannaturali e funge da guida dando le indicazioni nella sua mente. Dopo lo stesso evento, inoltre, il fratello Jesse, Dylan Fedden, scompare nel nulla, rapito da una misteriosa organizzazione. Jesse vive quindi nell'ombra, il periodo precedente all'inizio del gioco, cercando tracce della posizione e del destino del fratello. Dopo una ventina di anni dagli eventi che l'hanno separata dal fratello, Jesse arriva finalmente a scoprire l'ubicazione della FBC, Federal Bureau of Control, organizzazione segreta governativa che ha rapito suo fratello Dylan e che si occupa di fenomeni inspiegabili o soprannaturali. Questo, più o meno, era un rassunto veloce per farvi capire di cosa si tratta questo gioco. Detto ciò, non vi dico altro, non vi faccio perdere altro tempo, andate e scaricate questo gioco se ancora non l'avete mai provato.